partiti l'albito chi è quest'oggi e fabbri della sezione di ravenna al bar c'è vale l'infortunato valeri va bene va bene a valeri sta al bar così risulta non abbiamo le immagini molto attaccato quadrado soffia pallone a che ita venta cur veloce morata sembra in posizione regolare sembra gliela restituisce ronaldo ancora chiesa il rompe e sottoporta gliela schianta lì dritta in mezzo alla porta tanto udero è stordito dai movimenti dei nostri davanti e neanche vede pallone devastante della juve tutta di prima ronaldo morata chiesa adesso ve la faccio vedere intanto l'onda l'onda mondo flex sì 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 allora guardate ronaldo diciamo così è il vertice di un triangolo che funziona funziona in questo modo guardate palla ronaldo ronaldo vede il movimento di morata lo serve immediatamente morata da questa posizione vede il movimento di chiesa mette un pallone in mezzo un pallone in mezzo dove chiesa arriva e mette dentro sempre in posizione regolare perché quando morata viene innescato da ronaldo è in posizione regolare entra qui alza la testa vede l'arrivo di chiesa palla messa qui e gol e cos'è di stinco con lo 5 gol su azione ah sì la mette in mezzo a ciecare torregrossa troppo lungo l'altra parte poi c'è stato intervento molto pericoloso credo di alexandolo che ha messo una palla all'indietro in area di rigore attenzione ronaldo vede quadrato l'assist è perfetto quadrato contro udero serve ranzi ed è gol sei contro piede perfetto ranzi col sinistro guarda quadrato se la fa servire e piazza le spalle di vero e finisce la partita tra i punti alla viola ma che assist di ronaldo sofferta ma vinta che la classifica inizia a sorridere il lancio molto bello di chi è stato ronaldo assist di ronaldo bene l'onda mondo flex via allora voi dovete immaginare qui pulisco la lavagna dovete immaginare cristiano ronaldo che da questa posizione ma addirittura non so neanche se riusciamo ad allargare l'inquadratura all'interno della metà campo della juventus fa partire una sventagliata dove c'è la seguente situazione tattica e cioè qui quadrato e qui ram 6 il lancio taglia tutto quanto il campo quadrato arriva qui entra in area di rigore tenta l'uscita udero ma ram 6 ha seguito l'azione palla appoggiata qui dove ram 6 non deve fare altro che toccare il pallone metterlo in gol e del 2 a 0 5 minuti recupero siamo dentro secondo 2 a 0 bernardeschi fino al limite se non la passa ram 6 è dato il fuori gioco falli ballare ragazzi falli ballare a destra che portiamo a casa da questi tre punti il lancio a metà strada e finisce qui bene è finita 2 a 0 2 a 0 molto molto importanti e voluti fortemente ho visto mentalità nella juve eccola qui la classifica juve 39 la juve suona di nuovo alla porta dell'altra classifica adesso aspettiamo l'inter che ci andrà in campo tra breve che ci andrà in campo